Otto mesi di reclusione, a tanto ammonta la pena patteggiata da LC, 21enne di origini campane, che lo scorso 16 aprile aveva tentato di raggirare un anziano di ateleta con la solita tecnica della truffa del pacco. Il giovane che fu ristretto ai domiciliari si è presentato l'altro giorno davanti al giudice del tribunale di Sulmona, Alessandra De Marco. L'imputato era stato bloccato da un concentramento dei militari dell'arma, che li avevano precluso in via di fuga, dove aver commesso una truffa ai danni di un 83enne di ateleta e un'altra tentata nei confronti di un'anziana dello stesso paese. Utili ai fini del risultato delle indagini, monitoraggio quotidiano dei mezzi in transito e le segnalazioni sospette da parte dei cittadini. E' proprio una trovettura utilitaria, era rientrata nelle attenzioni dei carabinieri, che alla richiesta di aiuto da parte dell'83enne hanno azionato il dispositivo e intercettato il veicolo sospettato, con a bordo un giovane è risultato essere l'autore della truffa di circa 2.000 euro appena consumata, ai danni dell'ultraottantenne. La tecnica di persuasione utilizzata per indurre le vittime in errore sarà quella del recapito di un pacco a mezzo corriere destinato ai nipoti o congiunti, dietro corrispettivo in danaro. Annulla il valso e tentativo di fuga del giovane alla guida del mezzo utilizzato per raggiungere l'Abruzzo. In seguito per qualche chilometro è stato bloccato con l'ausilio di più pattuglie dell'arma intervenute. Sottoposto e immediata perquisizione è stata rinvenuta la somma contante, sottratta con l'inganno, subito restituita alla vittima, più strumentazione elettronica e mappe della zona sottoposte a sequestro in quanto pertinenti reati perseguiti. Da qui l'arresto e la pena patteggiata davanti al tribunale. Il 21enne è stato difeso dall'avvocato, nel foro di Sulmona Francesco Cantelmi. Non si fermano le indagini dei carabinieri, volte ad accertare se il giovane può essere collegato con la banda che ha posto in essere altri colpi sul territorio, anche in Valle Peligna, a danno degli anziani.